Eccomi, mi trovo vicino a Ponte Vecchio, nella loggia del mercato. Sapete perché sono arrivato fino a qui? Seguitemi! Cosa ci fa un porcellino di bronzo nel bel mezzo di Firenze? Ora ve lo spiego. Secondo la tradizione, toccare il naso del porcellino porta fortuna. Ma toccare il naso non basta. Vediamo se trova una monetina. Eccola! Mettiamola nella sua bocca. Non morde, tranquilli. Ora vediamo dove cade la monetina. Se cade oltre la grata diventerò molto fortunato, altrimenti... Oltre la grata, fortunato!